Abbiamo sempre rinunciato a candidare pagandone il dazio, attenzione, perché molti dei risultati elettorali non soddisfacenti sono dovuti al fatto che non abbiamo mai imbarcato a chiappa voti e guardate che abbiamo anche noi la lista di capibastone che hanno dei pacchetti precostituiti di voti che ci hanno offerti dappertutto, li abbiamo sempre rifiutati, noi siamo assolutamente impermeabili a questo modo di fare, questa è cattiva politica. Abbiamo rinunciato fino anche a finanziatori, non voglio quantificare in questo momento perché dovrei fare dei calcoli complicati, ma non sapete quanti finanziatori sono venuti che ci volevano finanziare campagne elettorali, abbiamo sempre rifiutato, abbiamo sempre lavorato con le micro donazioni degli iscritti, di chi è convinto delle nostre battaglie e genuinamente partecipa anche con qualche ovolo finanziariamente alle nostre battaglie. Noi siamo quelli, per ragionare di chi ancora oggi scrive sui giornali di opportunismo, noi siamo quelli che hanno candidato campioni della lotta alla mafia, che hanno lavorato con Falcone, con Borsellino, come Scarpinato, come Derao, siamo quelli che oggi candidano per le europee Antoci, l'autore del protocollo Antoci, lodato dalla Commissione europea.